La Camera di Commercio di Nuoro sta correndo il serio rischio di essere accorpata con quella di Sassari con tutte le conseguenze che questo comporterebbe per le aziende insediate nella Sardegna centrale ma anche su alcune iniziative uniche che l'ente camerale nurese ha avviato in questi anni da autunno in Barbagia, le primavere nel campo del marketing territoriale ormai copiati in tutta Italia a making nuoro sulle nuove frontiere della produzione digitale. A lanciare l'allarme Luigi Crisponi, consigliere regionale dei riformatori che ha depositato nell'Assemblea Sarda un'interrogazione urgente al governatore Pinaru. Per la legge inesorabile dei numeri delle imprese iscritte la Camera di Commercio di Cagliari dovrebbe assorbire quella di Oristano e quella di Sassari dovrebbe incorporare quella di Nuoro sottolinea Crisponi in una nota. La beffarda decisione sarebbe stata assunta ieri dal Comitato di Presidenza di Unione Camere Nazionale a seguito dell'invito fatto dal Consiglio dei Ministri sulla chiusura e accorpamento di 45 enti camerali su 105 esistenti oggi sul territorio nazionale. Riffiutiamo l'idea, ha rilevato il Consigliere regionale dei riformatori, che l'inutile cura dimagrante imposta alle Camere di Commercio dal decreto dell'ex governo Renzi possa espropriare il tessuto economico del nuorese, delle proprie risorse e della propria autonomia. Questo sarebbe un colpo di scura ad un territorio mortificato e provato dai tagli insensati agli uffici pubblici, prosegue Crisponi, senza che si tengano peraltro in debito conto i bilanci virtuosi della Camera di Commercio di Nuore e le deroghe previste dalla legge delega che assicurava continuità agli enti camerali situati in territori montani e carenti di infrastrutture pubbliche. Con l'interrogazione i riformatori chiedono al Presidente Pigliaru cosa intende a fare per respingere la decisione del Governo e salvaguardare l'autonomia e la specialità della Sardegna?